Quest'anno abbiamo creato un bellissimo gruppo di lavoro, ci sono dei nuovi artisti e dobbiamo ringraziarli tutti quanti perché ci hanno donato delle loro splendide opere ad un prezzo di base d'asta irrisorio per Piattaforma Solidale, quindi per uno scopo benefico e per aiutare la comunità. Sono tutti artisti della provincia di Pesaro famosi che fanno parte di questa bellissima famiglia che è diventata Piattaforma Solidale, quindi lavorare insieme per aiutare il prossimo, soprattutto persone che hanno bisogno realmente. In un periodo come questo ci siamo adoperati per aiutare il prossimo, come facevamo col Covid, avevamo dei problemi, quindi la mostra ci sarà fisicamente in Palazzo Laurana del 25 ottobre all'1 novembre. Quindi le persone contingentate potranno entrare tranquillamente a vedere la mostra, le opere che sono in asta e ci sarà contemporaneamente questa novità di un'asta non fisica ma digitale. Dobbiamo ringraziare l'ingegnere Luminari della Comis perché ci ha permesso di creare questa piattaforma, c'è una base per creare l'asta online, un piccolissimo ebay. Quindi con questo si va sul sito su piattaformasolidale.it e ci si può loggare, si possono visionare fisicamente e poi comprare. Crediamo che questo sia un appuntamento estremamente importante perché mette insieme gli artisti con la solidarietà. Per cosa? Per poi attivare dei progetti che puntano a dare un aiuto, un sollievo alle persone che hanno problematiche, non solo disabili, ma anche chi ha problemi temporanei. E la solidarietà deve essere l'elemento importante di tutta l'iniziativa. Un esempio di questi progetti stiamo lavorando sulle usili, le usili per le persone che hanno problematiche motorie, per crearne di nuovi, progettarne di nuovi o migliorare quelli esistenti. Perché servono a migliorare la qualità della vita. Un soggetto disabile o una persona che ha temporaneamente delle problematiche, se riesce a ritornare a vivere in mezzo alla gente con l'aiuto di alcuni usili, quindi migliora la propria qualità della vita e non rimane isolato e quindi si prevengono anche altre patologie che derivano dall'isolamento e dal rimanere fermi nella propria abitazione.